Tocca anche Arezzo quello che viene considerato il più ingente sequestro di droga mai portato a termine in Italia. Oltre 4.000 kg di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste, in tutto eseguite ben 38 misure cautelari tra l'Europa e la Colombia, paese da cui arrivava anche la cocaina sequestrata lo scorso novembre in A1 ad Arezzo. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Antonio De Nicolo della direzione distrettuale antimafia del Friuli Venezia Giulia e dal pubblico ministero Federico Frezza, ha prosciugato uno dei principali canali di smercio della cocaina colombiana in Italia. La droga, che aveva un valore di circa 96 milioni di euro, avrebbe fruttato una volta sul mercato oltre 240 milioni. Le indagini sono arrivate anche in provincia di Arezzo perché il sequestro di una delle maxi consegne di stupefacente, in tutto 19 quelle controllate sotto copertura dalle forze dell'ordine, è avvenuto il 9 novembre 2021, quando all'altezza del casello autostradale di Arezzo fu segnalato un furgone di colore bianco, al cui interno erano stipati numerosi sacchi contenenti 400 panetti del peso complessivo di 400 kg di cocaina. Il sequestro più ingente mai avvenuto ad Arezzo a finire in manette per traffico di sostanze stupefacenti fu un 38enne residente nel Fiorentino.